Episodio 13 del corso di Laravel, ci manca da guardare i seeder adesso e capire come i seeder vanno a mettersi, a posizionarsi in questo puzzle che riguarda database, migration, factories e appunto seeders, in realtà models perché abbiamo visto anche i models. Allora i seeders sono sostanzialmente l'ultimo tassello di questo approccio di andare a gestire il database per quanto riguarda la parte, chiamiamola così, di sviluppo, tipo la costruzione del database, la modifica, l'inserimento di dati fittizi e quant'altro, quindi i seeders sono appunto quest'ultimo tassello. E cosa fanno? Se voi andate ad aprire database seeder, notate già che va a chiamare user factory. Qua abbiamo una versione commentata e qua abbiamo una versione non commentata che già conosciamo, abbiamo già visto questa sintassi. Qua vedete che andiamo a creare 10 sostanzialmente utenti con una sintassi leggermente diversa rispetto a quella che avevamo vista col count, ma fa poca differenza e qua invece andiamo a creare un unico utente singolo dove andiamo a mettere chiaramente un nome specifico e un'email specifica. Quindi i seeder altro non sono che sempre classi PHP che però andiamo ad eseguire direttamente con Artisan perché dove era il pain point, il problema per ora? Che per andare ad utilizzare le nostre factory, vedete le nostre factory, noi passavamo dagli API, API web o API effettivamente JSON è irrilevante, ma noi passavamo da qua. Che non è sbagliato da un certo punto di vista perché se vogliamo appunto verificare determinate cose, che la route funzioni, che funzionino determinati controlli eccetera, non c'è niente di male ad andare ad utilizzare le factory qua per vedere qualcosa che capita effettivamente nel database. Va bene, però pensate alla situazione in cui noi vogliamo partire freschi con 50 utenti, 100 post e cose del genere. Cioè pensate se avete il vostro progetto, avete online il vostro progetto su un repository, avete cambiato computer per qualche motivo, dovete tirarlo giù e dovete andare a riempire tutti i dati sul database. Giustamente. Cosa fate? Per come lo sappiamo fare adesso, andremmo a prendere la route e la facciamo partire apposta dalla route. Quindi andiamo qua e facciamo php artisan serve, dopodiché andiamo sulla route specifica, quindi potremmo voler avere delle route di prova per riempire il database. Insomma, non la cosa migliore del mondo perché se stava qua poi viene pushata in produzione. Quindi sicuramente non l'approccio migliore avere delle route apposite per riempire il database. Quello che vogliamo fare è avere un comando. Quindi anziché fare tutto noi, tutto il giro sull'applicazione, io voglio avere un comando tipo riempimi il database con dati fittizi. Ok? Con dati fittizi. Chi è che va a riempire sostanzialmente il database? Anzi, chi è che va a creare dati fittizi? Le factory, lo sappiamo. Ma chi viene chiamato e va effettivamente a riempire il database quando facciamo il comando? E-seeder. Ok? Quindi qua abbiamo database seeder, qua dentro noi andremo a fare il comando per andare a creare quest'utente. Proviamo, è molto semplice, ci basta fare php artisan db seed. Il seed è il seme, quindi stiamo andando, è come se stessimo andando ad arare il campo, andiamo a mettere i semi nel nostro campo di grano. Facciamo la stessa cosa, stiamo andando a mettere i semi dei nostri dati all'interno del database. Possiamo chiamare una classe specifica, quando più avanti l'avremo, ad esempio class post seeder. Perché? Perché magari avremo, vogliamo, avremo più classi, vogliamo solo aggiungere degli utenti, ci servono, ci servono più blog, ci servono più commenti, più recensioni, più prodotti. Quindi potremmo chiamare singolo. Oppure possiamo eseguire tutto ciò che abbiamo come le migration. Non è diverso da php artisan migrate. Facciamo invio e vedete che ha effettivamente inserito tutti i nostri semini all'interno del db. Quindi andiamo qua, siamo sugli utenti, aggiorno, bam, è comparso un nuovo utente. Perfetto. Quindi capite come si va a collegare il seeder, non è altro che un qualcosa che facciamo partire da console. Molto più comodo appunto che fare tutto il giro del fumo. Il giro del fumo non è male, ripeto, se vogliamo testare roba potrebbe essere comodo, ma se invece vogliamo semplicemente popolare per popolare il database, perché ci servono dati aggiuntivi, andiamo a chiamare il seeder, il seeder esegue la factory e noi siamo a posto. Non dobbiamo andare in giro sulle route, non dobbiamo riempire form, niente. Lanciamo un comando, il comando ci riempie il database. Quanto è comodo? Quindi capite perché va a chiudere tutto il giro legato alla gestione del database senza mettere mano al database. Perché con le migration andiamo a creare e modificare il database, con le factory andiamo a produrre i dati da inserire, col seeder andiamo effettivamente a fare il comando ed inserire i dati generati dalle factory. Ora, come creiamo un seeder? Molto semplice. Andiamo a fare php, artisan, make, lo sapete, seeder e poi post seeder. Diciamo invio e vedete che è comparso post seeder. Qua dentro andremo a chiamare la factory dei post. Quindi potremmo dire, guarda, quando faccio partire la run mi crei subito 10 post. Proviamo. Quindi qua dentro, dove era? Nel web. Abbiamo questo, in realtà era l'utente, ma noi potremmo fare comunque per cosa? Potremmo fare comunque per i post. Quindi anziché user factory. Factory count. Perfetto. Unverified. Lo togliamo. Create. Facciamo così. E lanciamo. Perfetto. Andiamo a vedere. E come vedete, sono stati aggiunti altri 10 post. Niente male. Semplicemente con un comando. Ora, rivediamo la differenza tra il database seeder e i singoli. I singoli ci servono per andare appunto a dividere logicamente i vari seed. Quindi, post seeder, giustamente andremo a creare i post. Basta. Che poi magari i post, la post factory, è collegata alla user factory. E l'abbiamo visto, che l'abbiamo fatto, vedete? Questo è un altro discorso. Ma quello che ci interessa è che voglio creare dei nuovi post. Basta. Mentre invece nel database seeder, la logica è quella di andare a mettere più factory. Quindi se vogliamo lanciare questo, possiamo gestire più factory. User, post, recensioni e quant'altro. Se volete roba singola, ve la fate singola, la lanciate singola. Se volete tutta roba insieme, ve la mettete insieme. Potete avere entrambi, lanciare tutto insieme. È irrilevante. L'importante è capire la differenza. Un modo in cui in realtà potremmo usarlo, al di là del non fare gli altri o mettere qua dentro tutto insieme, potremmo da qua, dal database seeder, andare a chiamare gli altri. Quindi vedete che qua abbiamo post. E cosa potremmo fare? Anziché avere user factory così, potremmo dire, commentiamo intanto, potremmo andare a fare dollaro dis, andiamo a chiamare che cosa? Facciamo una call e dentro andiamo a mettere user seeder, che non abbiamo, dovremmo andare a creare, ma in questo caso ci limitiamo a fare post seeder. Due punti, due punti, class, tac, e questo non serve qua. Ho sbagliato, ho messo parentesi. Graffe servivano le quadre. Perfetto, di array si tratta. Ok, quindi salvo. E adesso, anziché lanciare il post seeder, facciamo direttamente db seed, in questo modo. Facciamo invio. Vedete, ha fatto partire. Siamo al 21. E come vedete siamo a 31. Ok? Quindi, quando facciamo partire il comando db seed, fa partire database seed. Ok? Questo qua. Quando invece andiamo a utilizzare il comando specifico con la classe, facciamo partire solo una classe. Quindi voi potreste avere più file, post seed, user seed, review seed e quant'altro, e li mettete qua dentro, in base alle vostre necessità, chiaramente. Quindi quando fate run, farà partire i post, gli utenti, eccetera. Contate che i post sono legati agli utenti, perciò non servirebbe tecnicamente far partire così tanti utenti, però questo è il discorso. Quindi da qua avete la gestione centralizzata. Una cosa che potremmo fare, eventualmente, un'altra cosa, è gestire l'inserimento solo se la tabella è vuota. Quindi potremmo avere una cosa tipo if post, due punti, due punti, count. Quindi se il conteggio dei post che abbiamo nella tabella è uguale a zero, allora cosa fai? Mi vai a fare post, due punti, factory, tac. E poi abbiamo count, dobbiamo mettere count 50, e poi, ups, mi confondo sempre con la freccetta qua, count, e poi abbiamo create. Facciamo così, salviamo. Giustamente non trova questo, quindi importiamo il modello. Adesso che abbiamo il modello, noi facciamo così, a quanto eravamo. Siamo a, chiaramente, 31, che è diverso da zero. Quindi se io faccio partire non seeder, ma db seed e basta, andiamo a vedere. Chiaramente non è successo niente, vedete che continua a aggiornare, non è successo niente. Ma facciamo che se il count è minore di cosa, di 35, allora me li vai a creare. Quindi facciamo ripartire, andiamo a vedere, aggiorno, bam, li ha inseriti. Li ha inseriti 50, eravamo a 31, siamo ad 81. Quindi, sostanzialmente, abbiamo il completo controllo su quello che vogliamo fare. Questo è quanto per i seeder. Direi che abbiamo dati a sufficienza nel nostro db. In realtà, abbiamo dati a sufficienza? Fammi vedere. Sì, ok. Abbiamo dati a sufficienza. Al massimo li possiamo andare a aggiungere off camera, così come potete farlo voi appena questo video finisce. E proseguiamo, perché finalmente parliamo delle route dinamiche. Le abbiamo saltate, perché non avevamo dati nel database. Adesso le abbiamo, quindi finalmente possiamo parlarne. Quindi ci vediamo tra poco.